Ecco ora per voi un altro dipinto, il giudizio di Paride, realizzato da Luca Giordano nel XVII secolo. Quest'opera ci racconta una storia, lo si intuisce dalla posizione dei personaggi, dagli sguardi, dalle mani. Cosa sta accadendo? Il pittore ha voluto rappresentare il momento centrale di uno dei miti più famosi, quello che ha per protagonisti Paride, un giovane pastore, qui dipinto con il mantello grigio, e tre bellissime idee. Afrodite, nel quadro è avvolta da vesti blu e bianche, Hera, alle sue spalle, e Atena, semi nascosta da un mantello verdastro, che trattiene una lancia, quasi al centro dell'opera. Tutta la storia ruota attorno ad una mela d'oro, sì, un lucente prezioso frutto, tutto d'oro. Cercalo nell'opera. Lo vedi? È chiuso nella mano destra di Paride, che sta puntando l'indice dell'altra mano verso Afrodite. Hai riconosciuto la storia? Ascolta. Molto, molto tempo fa, al tempo in cui gli uomini credevano negli dèi, Zeus, re dell'Olimpo, decise di offrire a tutti loro un banchetto per festeggiare le nozze della ninfa Teti con il re Peleo. Invitò tutti, ma non Eris, dea della discordia. Eris si offese e decise di vendicarsi. Nel ben mezzo della festa lasciò cadere dall'alto della tavola una mela d'oro, sulla quale era scritto alla più bella. Subito le tre dèi più belle si fecero avanti, ognuna affermando di meritarsi il frutto. Erano Afrodite, Atena ed Era. Cominciarono a litigare, ad accapigliarsi, strappandosi la mela dalle mani, finché Zeus, per calmarle, decise di affidare la scelta a Paride, un bellissimo giovane che viveva facendo il pastore. In realtà Paride era un principe, figlio di Priamo, re di Troia, abbandonato sin da piccolo sul monte Ida. La regina, sua madre, aveva sognato che da grande Paride sarebbe stato la rovina del suo regno. Ermes, messaggero degli dèi, dopo aver condotto da lui le tre dèi, gli consegnò la mela e gli disse di darla alla più bella. Osserva come il pittore ha costruito la scena per farci capire la scelta di Paride. Tutto ci porta verso Afrodite, la luce, l'indice del pastore, gli sguardi di intesa tra i due. Certo, è lei la prescelta. Sotto alle vesti della dea ecco apparire un bambino paffutello che tiene in mano una freccia d'oro. È Eros, dio dell'amore, suo figlio. Guarda verso di noi con occhietti vivaci, quasi a dire io ho il potere più grande perché scagliando le mie frecce posso far innamorare le persone. Sullo sfondo un oscuro paesaggio di montagna e cupi nuvoloni sembrano avanzare verso di noi. Come a dirci che la scelta di Paride porterà gravi conseguenze? Eh sì, la guerra di Troia combattuta tra troiani e greci. Ma questa è un'altra storia.